Tutto era iniziato dalla grave situazione di degrado dei condomini dell'Ater di Valmaura denunciata ai microfoni di Telequattro. Siamo lasciati come tutte le case dell'Ater, siamo un po' ammarginati. Quando si la rischiava è il ballone. È risaputo Valmaura. E da una promessa del presidente dell'Ater Unica regionale Serafini. In una decina di giorni ci sarà un ulteriore sopralluogo da parte nostra e immediatamente dopo partirà l'intervento. Il sopralluogo però non è stato fatto nei tempi previsti. È arrivato qualcuno qui a fare un altro sopralluogo? Nessuno. Qualche auto è stata rimossa? Niente, niente. Nessun intervento? Nessun intervento. Poi la seconda promessa. Il giorno 28 saremo a Trieste per la visita del quartiere di Valmaura. Proprio espressamente solo per quello. Un'ora e mezza dedicheremo al quartiere di Valmaura. Telequattro si è sincerata due volte dell'appuntamento del 28 ottobre. Poi inaspettatamente il giorno prima del sopralluogo ci sentiamo rispondere dall'Ater che il presidente era già sul posto qualche giorno prima di mattina in velocità assieme all'assessore comunale regionale competente e che gli interventi per lo sgombero del parcheggio sotterraneo partiranno al più presto. Peccato che quello fosse solo uno della ridda di problemi segnalati dagli inquilini che volevano confrontarsi direttamente con Serafini e visto il blitz anticipato non hanno potuto farlo. Poi l'ultima promessa per domani alle 12 avevamo fissato sul posto un incontro con il numero uno dell'Ater per comunicare le decisioni prese e soprattutto confrontarsi con la gente. A questo punto della vicenda però scompare l'addetto stampa di Ater ed entra in scena Alessandro Minisini, ex consigliere comunale della Margherita entrato nel CDA dell'Ater in quota Udc dopo aver cambiato partito. E magicamente l'intervento sul posto con i cittadini si trasforma in un'intervista nel suo ufficio. Poi, dopo una discussione telefonica con lo stesso Minisini, arriva l'accusa «Voi siete una TV, come vi permettete di mettervi in mezzo fra cittadini e denti, fra cittadini e istituzioni? Non è il vostro compito. Chi credete di essere?» Umilmente rispondiamo. Telequattro crede di essere l'attestata giornalistica che con i propri servizi, interviste e programmi come Ring ha contribuito, ad esempio, a spingere le amministrazioni a ripristinare il servizio navetta al cimitero. «Sento l'obbligo di ringraziare tantissimo Telequattro perché ci ha sopportato in questa iniziativa». Telequattro crede di essere l'attestata che fa un servizio su una strada disastrata a San Giuseppe e guarda caso il giorno dopo l'arteria stradale viene messa a posto. «Un grazie di cuore a Telequattro per aver risolto anche questo problema». Telequattro crede di essere l'emittente che non ha paura di occuparsi di casi difficili come quello di Paolo Di Fazio, il disabile che attende guarda caso proprio dall'arter il via libera per un cambio di alloggio, per poterci vivere finalmente con dignità in quell'abitazione. «Non più una dignità». Potremmo continuare a lungo ma ci fermiamo qui perché nella nostra fallibilità di persone «Un'unica cosa, non crediamo, ma siamo convinti di essere sempre al servizio dei cittadini di Trieste». «Proprio ieri ho visto che mi faceva per Telequattro, speriamo che vengi anche qua perché c'è un condotto». «Us Schweppogli accendent l'opportunità». Grazie.